Un anno fa le politiche, come è cambiato lo scenario? Sono passati 12 mesi dalla vittoria del centrodestra di Giorgia Meloni, successo replicato anche in regione e in sanità il comitato Santimotio insiste sul decreto Molise. Maltrattamenti e lesioni, misura cautelare per un 54enne, picchiava e denigrava la ex moglie dopo 25 anni insieme, lei lo ha lasciato, lui ha continuato a molestarla, gli è stato vietato di avvicinarla, indagini di procura di Campobasso e Carabinieri. Pizzone 2 Enel, pronta a rivedere il progetto, incontro in comune a Castel San Vincenzo dove i dirigenti della società elettrica si sono confrontati con chi manifesta per il no, presenti anche i parlamentari Lancellotta e Della Porta. La Madonna di Castelpetroso da 50 anni, patrona del Molise, la manifestazione nella Basilica minore anche per i 133 anni, dalla posa della prima pietra del santuario dopo l'apparizione della Vergine, l'Adolorata protegge da mezzo secolo i fedeli molisani. Basket di Serie A1, Magnolia terza al Terranova. La squadra Campobassana ha partecipato al quadrangolare, al pala di concilio ad Agropoli, sconfitta in semifinale dal Ragusa. Le ragazze si sono rifatte con le padrone di casa di Battipaglia. Buon pomeriggio, benvenuti all'edizione delle 14 del nostro telegiornale. Esattamente un anno fa le elezioni politiche che hanno sancito la vittoria del centrodestra e la nascita del governo Meloni. Successo poi replicato anche alle elezioni regionali di giugno. Vediamo allora come è cambiata la geografia politica in Molise negli ultimi dieci anni, questo servizio di Pasquale Di Bello. A guardare nei ricordi sembra ancora ieri, per dirla con l'Incipit del 56, meravigliosa canzone di Francesco De Gregori. E invece è già passato un anno. Era il 25 settembre di un anno fa, infatti, e quel giorno gli italiani vennero chiamati alle urne per la scelta del nuovo Parlamento e del governo del paese. Il risultato fu netto e chiaro, a differenza della pappa elettorale indistinta delle precedenti tornate elettorali, che avevano in buona sostanza consegnato l'Italia a governi tecnici e alleanze spurie. Il centrodestra, a traino Fratelli d'Italia, vinse in maniera indiscutibile. Giorgia Meloni, erede del partito che fu di Giorgio Almirante, assunse, prima donna in assoluto, il ruolo di capo del governo. Il Molise in quella circostanza risultò allineato in pieno alla tendenza nazionale e anche qui da noi il centrodestra fece cappotto. Quattro parlamentari eletti su quattro, il centrista Lorenzo Cesa all'uninominale Camera, affiancato da Elisabetta Lancellotta di Fratelli d'Italia, eletta al proporzionale. Mentre al Senato gli eletti furono Claudio Lotito di Forza Italia, all'uninominale, e Costanzo della Porta di Fratelli d'Italia al proporzionale. A distanza di nove mesi, la cabala politica si allineò sempre di 25, ma questa volta nel mese di giugno. Elezioni regionali. E qui il risultato fu ancora più ampio. Francesco Roberti è arrivato in regione come un surfista sulla cresta di un'onda gigantesca che lo ha portato direttamente al quarto piano di Via Genova senza fare le scale né prendere l'ascensore. Un botto da 94.000 voti il suo e una percentuale del 62%, che significa per la coalizione circa 40.000 voti in più delle politiche precedenti e 20 punti percentuali guadagnati in una manciata di mesi. Positivo anche sul fronte opposto il raffronto tra politiche e regionali. 55.000 voti alle regionali per il centrosinistra e una percentuale del 36%, a fronte dei 30.000 voti raccolti alle politiche e una percentuale del 23%. Sul fronte delle singole forze, alle regionali si è registrata rispetto alle politiche una flessione di Fratelli d'Italia passata dal 21 al 18%, un calo della Lega passata dall'8 al 6%. Nel raffronto sono cresciuti tra le forze principali il PD passato dal 12 al 18% e l'alleanza Verdi-Sinistra passata dal 3 a poco meno del 5%. Stabile Forza Italia all'11%. A uscire invece con le ossa rotte nel confronto è il Movimento 5 Stelle passato dai 31.000 voti delle politiche e da una percentuale del 24% ai 10.000 voti delle regionali e al 7%. E a un anno dalle elezioni politiche il Comitato Santimotio di Termoli fa un bilancio su quanto fatto dagli eletti per la sanità molisana e torna anche a parlare del decreto molise. Sentiamo Francesca Danversa. A un anno di governo Meloni per il Molise, secondo Nicola Felice presidente del Comitato Santimotio poco è stato fatto soprattutto per la sanità. Tra gli interventi più significativi ha detto Felice è stato varato il decreto spalma debiti che consente di pagare in 10 anni il disavanzo a questo si aggiunge la ricostituzione della struttura commissariale della sanità ma non c'è ombra del decreto molise che rientrava negli impegni presi dagli eletti alle elezioni politiche. Credo che ci siano tutte le condizioni adesso anche perché l'aggiunta è stata costituita quindi i rapporti si possono ben definire come appunto dicevano che si aspettava l'elezione regionale quindi credo e auspichiamo che a breve giunga finalmente quella famigerata decreto molise. Pochi giorni fa i commissari Marco Bonamico e Olisse Di Giacomo insieme al direttore generale per la salute della regione Lolita Gallo hanno incontrato a Pescara l'assessore alle politiche della salute della regione Abruzzo Nicoletta Verì per discutere di accordi di confine non solo per le prestazioni d'alta complessità ma anche per discipline che sono causa di mobilità passiva per entrambe le regioni. Una soluzione che il comitato aveva avanzato molte volte negli anni passati ma che non era mai stata presa in considerazione. Da anni si parlava di accordi di confine eppure noi come comitato avevamo già allarmato e detto che erano necessari fare degli accordi con la vicina Abruzzo soprattutto. Ciò non è stato fatto e continuavamo a dire che man mano si perdeva potere anche contrattuale con l'Abruzzo e forse dovevamo andare con il cappello in mano a chiedere ora gli accordi con V. Di questo quindi è un'iniziativa che va profondita va seguita e riteniamo che sia anche giusta accelerare perché in questa maniera ormai siamo allo stesso ospedale Sant'Imodio in uno stato quasi terminale. Dipende di come si fanno gli accordi e che potenzialità si ha nel contrattare gli accordi. È indispensabile farli però. Nello stesso tempo dobbiamo continuare a dire come dicevamo che a noi interessa che perlomeno l'ospedale Sant'Imodio abbia i reparti che già esistevano e esistono efficienti e funzionali. Si continua sempre a parlare del Balduzzi di superare il Balduzzi è possibile superarlo come ha fatto la stessa Abruzzo perché la stessa vicina Abruzzo giorni fa ha approvato una rete ospedaliere di ben 16 ospedali e noi continuiamo a paventare il secondo livello se ragionandoci bene l'Abruzzo su 16 ospedali non ha un ospedale di secondo livello. Mi auguro, aggiunto Felice, che il Basso Molise non venga penalizzato negli accordi di confine in compensazione di altre aree. Maggiore concertazione con il territorio e nuove valutazioni di impatto ambientale il progetto del mega impianto idroelettrico Pizzone 2 torna sul tavolo dei tecnici di Enel lo hanno assicurato oggi a Castel San Vincenzo i dirigenti della società elettrica durante un incontro nella sede del comune con gli esponenti parlamentari e i rappresentanti del neocomitato territoriale per dire no appunto al progetto un dietrofronto auspicato dai parlamentari Costanzo della Porta ed Elisabetta Lancellotta i quali hanno chiesto una maggiore partecipazione dei cittadini durante la stesura del progetto arrestano scettici invece i rappresentanti del comitato che chiedono la cancellazione dell'ampliamento dell'impianto La cronaca gli è stato vietato di avvicinarsi alla ex moglie ed è stato denunciato per maltrattamenti e lesioni personali questa la misura cautelare nei confronti di un uomo di 54 anni eseguita dai carabinieri di Sepino Sentiamo Maltrattamenti e lesioni personali alla ex moglie di questi reati è accusato un uomo di 54 anni nei confronti del quale i carabinieri di Sepino hanno eseguito un'ordinanza con la misura cautelare che gli vieta di avvicinarsi alla donna, alla sua casa e ai posti che lei frequenta inoltre deve evitare di contattarla in alcun modo Dopo 25 anni di matrimonio il comportamento del marito è diventato pesante nei confronti della consorte offese continue, frasi e atteggiamenti denigratori che l'hanno portata a lasciare la casa dove viveva con lui anche minacce di morte una situazione emerge dalle indagini divenuta insostenibile tanto che ha dovuto cambiare abitudini di vita esitato a denunciarlo ma alla fine si è rivolta ai carabinieri raccontando di sofferenze anche aggressioni fisiche addirittura in una circostanza detto di aver subito la deviazione del setto nasale e in un'altra la lesione del timpano neanche quando ha avuto il coraggio di andare via da lui ha trovato serenità ha riferito che per quattro volte l'ex marito le ha tagliato le gomme dell'auto poiché geloso e incapace di accettare di essere stato lasciato dopo aver denunciato uno dei quattro episodi di danneggiamento i militari dell'arma sono andati dall'uomo e nella sua auto hanno trovato un coltello a serramanico detenuto illegalmente fondamentali per ricostruire i fatti sono state oltre alle dichiarazioni della donna anche le immagini di videosorveglianza acquisite e altre testimonianze questa vicenda ha spiegato il procuratore capo di Campobasso Nicola D'Angelo è la punta dell'iceberg di una tipologia delittuosa sempre più ricorrente il cui contrasto capillare tra gli obiettivi della procura di Campobasso è doveroso e necessario per prevenire reati più gravi durante questo anno ha sottolineato D'Angelo sono state numerose le indagini relative al codice rosso trattate da carabinieri e squadra mobile sull'intero territorio provinciale ancora violenza nel carcere di Campobasso questa mattina lo stesso detenuto che la scorsa settimana aveva aggredito e ferito il medico del penitenziario si è scagliato contro uno psichiatra e contro un sovrintendente della polizia penitenziaria entrambi sono dovuti ricorrere alle cure dei medici dell'ospedale Cardarelli lo riferisce Aldo Di Giacomo che è il segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria che per domani ha indetto una nuova conferenza stampa proprio davanti al carcere domani mattina solo una brutta avventura e tanto spavento per i due ragazzi che si sono persi nei boschi di Roccamandolfi ieri sono stati recuperati grazie all'intervento con l'elicottero dei vigili del fuoco allora sentiamo il servizio di Giovanni Di Tota con l'intervista proprio a un vigile del fuoco hanno inviato un messaggio per segnalare la loro posizione in una zona impervia da 1700 metri di altitudine tra Campitello e Roccamandolfi due ragazzi si sono persi insieme al loro cane con cui erano usciti per fare un'escursione nei boschi del Matese si sono resi conto di essere in difficoltà e hanno fatto partire l'allarme dallo scaricaturo un bosco a metà strada tra Roccamandolfi e Campitello peraltro con una scarsa copertura del segnale telefonico dalla centrale operativa di Campobasso sono partite le squadre di terra ma è stato richiesto anche l'elicottero del reparto volo di Pescara abbiamo visto che la posizione era irraggiungibile quindi abbiamo chiesto subito l'ausilio dell'elicottero infatti i malcapitati riusciamo a vederli in pratica con un canocchiale erano su un groppo dove non c'era vegetazione ed era possibile in pratica essere recuperati dall'elicottero infatti di fianco non c'era vegetazione e si vedevano chiaramente erano anche chiari perché avevano dei vestiti abbastanza sgargianti di colore arancione e giallo e abbiamo deciso di avvicinarsi il più possibile perché se scendeva in pratica la nebbia come scesa dopo sul piazzale di Campitello non li hanno potuti depositare ci siamo avvicinati il più possibile perché se l'elicottero non poteva recuperarli in pratica procedevamo a piedi al recupero l'operazione è stata conclusa in tempi abbastanza modesti l'elicottero ha recuperato i malcapitati sono due giovanotti di Napoli che si erano in pratica improvvisati esploratori o altro e ad un certo punto non riuscivano ad andare più indietro perché si sono trovati in una condizione che in pratica si sono messi paura e sono stati presi dal panico con loro è stato portato a bordo anche il cane disperso tra le montagne per le cattive condizioni del tempo l'elicottero ha trasportato i recuperati fino a Boiano dove sono stati affidati ai carabinieri i due ragazzi di 19 e 20 anni si sono allontanati sulle loro gambe e dopo una sosta al supermercato sono tornati nei loro paesi d'origine in Campania sull'auto dei genitori che li sono tornati a prendere il tribunale di Larino ha accolto la domanda di risarcimento avanzata da un proprietario di terreni e di un fabbricato a Montenero di Bisaccia che sono stati gravemente danneggiati dalla frana del dicembre 2016 a rappresentare l'uomo in tribunale l'avvocato Loretta Di Vaira la consulenza tecnica di parte è stata fatta dall'ingegnere Roberto Dascanio e quella d'ufficio dall'ingegnere Mario Castelli la sentenza ha commentato l'avvocato Di Vaira oltre a dichiarare la responsabilità degli enti preposti al controllo del territorio comune di Montenero provincia e regione ha disposto anche a loro condanna a un notevole risarcimento danni in favore dell'azienda agricola e al pagamento delle spese legali e di consulenze Nicola Lanza di Azione Civile ha segnalato dopo 5 anni la situazione del parcheggio alle spalle di Piazza Venezia a Campobasso gli abitanti spiega chiedono un'area verde trasformando un parcheggio poco utilizzato in un nuovo fulcro della comunità delineando un modo sano di vivere prendiamo atto dell'attivazione di un processo di trasformazione del parcheggio in un campetto da gioco polivalente ma l'area di sosta prevista nella parte alta con accesso a Piazza Venezia va trasformata a parco ha sottolineato Lanza come richiedono i residenti l'istituzione del Parco Nazionale del Matese il cui iter è partito nel 2017 compie un altro passo in avanti la regione Campania ha fatto sapere il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Angelo Primiani sta inviando al Molise tutta la documentazione relativa alla perimetrazione e alla zonizzazione nel frattempo comuni e istituzioni molisani lavorino insieme in rete per ottenere che la sede dell'ente sia in Molise per la precisione a Boiano e l'appello di Primiani ma sentiamo il servizio di Anna Maria Di Matteo il Parco Nazionale del Matese compie un altro piccolo passo verso la sua istituzione ufficiale a darne notizie del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Angelo Primiani riferendosi al recente incontro che si è svolto a San Potito Sannitico un comune del versante campano del Parco le notizie che giungono sono incoraggianti per quanto riguarda il futuro del Parco Nazionale che è legge dal 2017 ma che di fatto non vede ancora la luce ha commentato Primiani dalla Campania stanno finalmente provvedendo ad inviare alla regione Molise tutta la documentazione che riguarda la zonizzazione la perimetrazione la bozza di disciplinare di regolamentazione una pratica che la Molise ha già chiuso ha sottolineato ancora l'esponente 5 Stelle tutta la documentazione dovrà essere inoltrata all'istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale dunque al ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ci vorrà ancora del tempo prima che arrivi il parere definitivo aggiunto e la nostra regione potrebbe approfittare per fare rete con i sindaci e tutti i portatori di interesse del territorio per avanzare una proposta concreta e fare in modo che la sede dell'ente venga istituita a Boiano non bisogna perdere l'occasione in questa fase di attesa e lavorare affinché ciò si realizzi ha concluso Primiani l'ordine dei giornalisti con Mauro con Mauro Gioielli Antonella Iammarino Cristina Niro Andrea Nasillo e Giuseppe Cavuoti riconfermata la presidenza del collegio dei revisori dei conti la figura di Francesco Bottone e poi c'è anche Antonella Salvatore e Francesco Colavita 600 le preferenze per Vincenzo Cimino e 500 per Luigi Albignano e Marcella Tamburello a fronte dei 691 a 20 diritto al voto tra i pubblicisti dunque un grande risultato quello per Cimino per la sua riconferma festeggiamenti solenni a Castel Petroso per il 133 anniversario della posa della prima pietra del santuario ma anche per i 50 anni dalla proclamazione della Madonna dolorata a patrona del Molise allora sentiamo Valeria Migliore Un giorno importante l'occasione per celebrare tre ricorrenze che hanno segnato la storia di Castel Petroso il 50esimo anniversario dalla proclamazione della beata vergine addolorata patrona del Molise il 133 anniversario dalla posa della prima pietra della Basilica e il decennale dalla concessione del titolo di Basilica Minore al santuario di Castel Petroso traguardi che sono stati festeggiati con una cerimonia solenne è un giorno importante per tutta la regione molisana perché questo è un luogo spirituale che in qualche modo raccoglie tutta la regione e non solo la regione molise ma anche tante altre persone dall'Italia anche dall'estero che vengono qui in pellegrinaggio ma anche per una semplice visita turistica la prima pietra fu posta il 28 settembre del 1890 alla presenza di circa 30.000 fedeli in un'atmosfera di fede e di gioia un luogo di preghiera ma anche un'opera d'arte stile neogotico tappa obbligata per i pellegrini il santuario fu poi consacrato il 21 settembre del 1975 e nello stesso giorno del 2013 fu elevato a Basilica Minore e in quel giorno veniva posta la prima pietra e solo dopo 85 anni veniva portata a termine nella costruzione questo a motivo delle scarse risorse economiche le due guerre e il freddo dell'inverno che impedivano chiaramente i lavori durante quella stagione e questo luogo è stato costruito con il sacrificio della gente e piccole offerte e il lavoro manuale gente che ha offerto il proprio lavoro per affinché si potesse costruire questo luogo che oggi possiamo contemplare da punizio architettonico ma anche spirituale ma il 6 dicembre del 1973 Maria Santissima Dolorata fu proclamata da Papa Paolo VI patrona del Molise oggi 50 anni dopo la sua protezione ha detto il Vescovo Bregantini è quanto mai necessaria sentiamo la protezione di Maria sempre più importante tramite la sua protezione chiediamo che noi siamo capaci di custodire la bellezza naturale del Molise di non fare scelte avventate di non credere che un finto progresso possa salvarci quando invece davanti alle situazioni attuali è la custodia del territorio come dice la laudato sì che darà futuro al territorio per cui bisogna stare molto attenti anche le scelte dell'Enel essere invece attenti a custodire profondamente questo è il messaggio che mi pare questa protezione mariana lei ci dice la cerimonia è stata introdotta dalla fanfara dei carabinieri un legame quello dell'arma con la Vergine indissolubile nei secoli abbiamo l'onore e il piacere di avere la fanfara più antica dell'arma dei carabinieri che è quella del Reggio a cavallo che è comandata dal luogo da lente dei tassinari che è qui a fianco a me però il nostro rapporto col Castel Petroso è un rapporto che è fedele nei secoli come il nostro motto e quindi si esplicita da tanto tempo tant'è che anche l'ultimo 5 giugno abbiamo festeggiato qui l'annuale della fondazione dell'arma la festa dell'arma e quindi in questo scenario stupendo e poi come sapete la patrona dell'arma è proprio la Madonna la Virgo Fidelis che festeggiamo ogni 21 novembre si è insediato il nuovo comandante della compagnia Carabinieri di Campobasso il tenente colonnello Alessandro Carpentieri è originario di Arpino è un militare di grande esperienza avendo nel curriculum diverse esperienze appunto di comando un convegno dedicato alla formazione politica dei giovani quello organizzato dalla fondazione Lello Lombardia Isernia insieme alla comune e alla regione tra il pubblico gli studenti degli istituti superiori della città sentiamo ancora Valeria Migliore i giovani rappresentano un fattore di crescita per la comunità e la loro formazione deve figurare tra gli obiettivi prioritari anche della classe politica l'idea alla base del convegno organizzato all'auditorium di Isernia dalla fondazione Lello Lombardi con il patrocinio del comune e della regione Molise tanti gli studenti degli istituti secondari di secondo grado presenti per il focus dedicato all'ex senatore molisano Lello Lombardi affinché la figura del politico scomparso nel 2013 ispiri i più giovani e gli stimoli alle attività per il bene comune oggi ricordiamo il senatore Lello Lombardi che ha fatto tanto per il Molise con la sua attività politica e quindi il primo passo è quello di trasmettere ai giovani la voglia di far politica perché così come sempre è stato detto la politica è la forma più alta di carità cristiana se viene fatto nel segno e nell'interesse dei cittadini e del territorio dove si vive quindi deve nascere in loro un senso civico una coscienza politica e una voglia di partecipazione nelle scelte future di questa regione Mission della fondazione è quella di trasmettere ai giovani il senso delle battaglie politiche di Lombardi in particolare l'approvazione della legge istitutiva di nuove università nel Molise e nel Mezzogiorno significativa per le regioni meridionali perché incentrata su una visione di università correlata allo sviluppo del territorio oggi nel PNRR la missione 4 e la missione 5 sono in effetti tutto il piano nazionale di ripresa e resilienza è battezzato Next Generation EU quindi futura generazione oggi qui ai Cerni insieme con la regione e col comune riprendiamo questi temi per valorizzare i giovani perché le scuole perché la prima formazione è quella dei valori quindi i valori etici che possano ispirare in ogni maniera l'azione dei politici da qui l'idea di coinvolgere gli studenti i Cernini questa iniziativa è finalizzata a motivare i giovani a impegnarsi per la propria formazione formazione sui valori primi fra i quali la dignità della persona umana la tutela delle fasce deboli e poi a puntare sulla formazione che rafforzi le loro competenze e la loro capacità vorremmo far capire ai giovani che in questo modo possono realizzare i loro sogni un nuovo modello di salute vicino al cittadino con la possibilità di accesso a servizi di diagnosi e cura in tempi rapidi è la proposta di tre giovani imprenditori che a Iserni hanno dato vita a una nuova iniziativa ce ne parla Giuseppe Carriera Prevenzione diagnosi tempestive metodologie innovative dotazione tecnologica avanzata sono le parole chiave di un nuovo progetto realizzato da tre giovani imprenditori a Isernia con lo scopo di dotare la città di una clinica polispecialistica in grado di fornire risposte in maniera diretta e veloce ai bisogni di un'utenza non solo cittadina che guarda anche alle zone di confine delle regioni vicine un progetto che è stato insomma molto pensato e poi finalmente autorizzato all'esercizio che mette insieme una serie di specialisti che provengono da varie realtà d'eccellenza sanitaria non solo nazionale ma anche internazionale basti pensare alla collaborazione con una nefrologa francese che arriva direttamente dal Saint-Salpeter di Parigi il gruppo imprenditoriale quasi dieci anni fa diede vita ad un'altra realtà nel settore odontoiatrico ancora oggi attiva con successo a Isernia quella esperienza ha portato a ampliare gli orizzonti siamo giovani imprenditori ormai già con dieci anni di esperienza alle spalle però io con onestà devo dire che in dieci anni gli utili di questo gruppo non sono mai stati distribuiti ma sempre reinvestiti e questo perché noi crediamo fortemente nella crescita del territorio io personalmente sono convinta del fatto che chi vince non è chi deve accontentarsi del piccolo stipendio a Milano sicuramente chi vince è chi ha deciso di rimanere sul territorio e noi stiamo qui per creare delle opportunità endoscopia urologia ginecologia cardiologia medicina estetica e chirurgia plastica i settori presenti nella struttura questa struttura ha come obiettivo di primario quello che è il miglioramento e la promozione della qualità dei servizi delle prestazioni se per esempio per una gastroscopia una colonoscopia adesso dobbiamo aspettare mesi allora questo tipo di struttura dunque in grado dunque in brevissimo tempo di dare in maniera efficiente una risposta adeguata in termini ottimali e subito al cittadino si farà diagnostica ma si faranno anche dei piccoli interventi che sono permessi dalle autorizzazioni ricevute da questa azienda da parte della regione alla cerimonia di inaugurazione con visita guidata negli ambulatori presenti anche l'assessore regionale Michele Iorio e il presidente della provincia di Sernia Alfredo Ricci si aggiungono altre possibilità terapeutiche che io credo completano il quadro dell'offerta sanitaria del Molise sia pure nel privato come è giusto che sia l'importante è che i cittadini hanno dove andare quando non si sentono bene e quando si devono curare una struttura all'avanguardia pensata anche che è una maniera che io che non sono tecnico vedo intelligente quindi la sala operatoria al centro e tutti gli ambulatori attorno credo che sono iniziative importanti perché danno una prospettiva al nostro territorio da un punto di vista innanzitutto di servizi sanitari e poi da un punto di vista economico sono imprenditori locali che direi illuminati hanno colto l'esigenza di un territorio di un territorio vasto e hanno realizzato una struttura rispetto alla quale non possiamo che essere entusiasti e fare i nostri complimenti a cinque anni dal gemellaggio stipulato tra la città di Termoli e Pampano Beach una delegazione della città dello stato della Florida è stata ricevuta nella sala consigliare del comune dal sindaco reggente Vincenzo Ferrazzano e da altri amministratori comunali sentiamo ancora Francesca Danversa Un gemellaggio quello tra Termoli e Pampano Beach avviato nel 2018 quando gli amministratori termolesi visitarono la cittadina della Florida a pochi chilometri da Miami un'idea nata da Michela Giuliano termolese trapiantata negli States a cinque anni di distanza una delegazione formata da Tony e Norma Phillips sono arrivati a Termoli e hanno portato i saluti del primo cittadino di Pampano Beach che non è potuto essere presente per impegni già assunti promuovere questi gemellaggi ha detto il vice sindaco reggente Vincenzo Ferrazzano è una grande opportunità crediamo fortemente in queste intese che hanno la base e culture diverse tutte da scoprire è stato per me un grande onore oggi come come sindaco poter ricevere questa questa delegazione il gemellaggio è un'eredità importante perché mette in contatto le nostre due comunità per cui ci permette di avere uno scambio culturale dal punto di vista turistico è qualcosa da tramandare ai nostri giovani ed è qualcosa che fa crescere tutte e due le nostre comunità coinvolgere anche i più giovani in questo progetto è fondamentale per costruire futuri progetti educativi infatti nei prossimi giorni la delegazione incontrerà gli studenti di alcune scuole termolesi ma molti sono i benefici che si possono ottrarre dal gemellaggio sotto il profilo turistico ed economico si tratta di coinvolgere le scuole elementari dalla terza alla quinta pregande sia in scambio in remoto ma anche con iniziative e esperienze ma anche andare lì a visitare perché noi in Stati Uniti coinvolgendo le famiglie e più ragazzi possibili più bambini possibili perché stiamo parlando delle scuole elementari ma l'obiettivo è quello solo di stringere ulteriore formazione partendo dalle scuole elementari visiterà le cantine Catabbo e poi ha fatto anche un'iniziativa sta instaurando proprio a termoli un'iniziativa per quanto riguarda una grande gelateria che sia una gelateria di produzione artigianale locale proprio per sviluppare l'economia e il business tra Termoli e la zona di Pampano Beach al termine della visita in sala consigliare Ferrazzano e Philips si sono scambiati dei doni gemelli una spilla con le bandiere italiane e americane per il vice sindaco reggente e per Philips un piatto raffigurante il castello Svevo e alcuni libri che raccontano la storia della città di Termoli E tutto termina qui l'edizione delle 14 del nostro telegiornale grazie per averci seguito dopo la sigla le previsioni meteo poi la linea ai colleghi dello sport noi ci rivediamo intorno alle 15 per il TG Flash buon pomeriggio a l'escriz a l'escriz l'escriz Grazie.